Allora, tra le tante, tra le milioni di altre cose, oggi è pranzo, mi sono svegliato dopo tutto pranzo meraviglioso che c'era, cioè mamma mi ha fatto trovare sta panna cotta fatta da lei, cioè come faccio non amarla, zio kanji, è una roba meravigliosa guardate ragazzi, me la mangio per voi, farò lo sforzo di mangiarmela per voi, buon pranzo e buon appetito.